Se ti piace la frutta E capitolo 5 sia ragazzi Ok qua si può anche fare un po' di spolazione tranquilla Tranne che Per i tarponi Via, 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 via i tarponi, via i tarponi Minchia, tra un po' mi ammazzano Ok Che si può miagolare ma bisogna miagolare nei momenti giusti Tipo adesso Suca Non ci finite qua su? Aha Allora Fatemi riflettere un secondo Ok Ci arriva, si ci arriva E qua ricordiamo Sembra tipo Quando non lo dico Avete presente il prete in chiesa? Preghiamo Ecco 33% Siamo esattamente a un terzo del tutto Ok quindi si prosegue di qui No Ma si prosegue di qui Forse No aspetta Ok Immagino che qui ci sia da fare questo Salire sopra E spingerci Ok quando vedete queste scene splatter Sono i tarponi famosi Zurk Per me sono E rimarranno tarponi Ok Ma mi aspetto una carica di tarponi Non indifferente Anche alla porta Tipo chiedo che si possano aprire E chiudere Ok Venite Venite a me Venite a me Ok Ok E si chiude di là Perfetto Ciao tarponi Muoio prima È inutile che continuate a saltare Tanto non mi chiapperete mai Via Qua veramente Creepy però Minchia se è creepy Gesù Cristo Se è creepy Vabbè Gesù Cristo è creepy In realtà Non vorrei rovinarvi dei miti Se ne è che se qua si svegliano Spinge sta tavola va Mi devo fidare Devo Credo che se li pesto Vengano fuori Vengono già fuori da loro Ok Appunto Eccoli qui Sono un fottio Ok Via 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 Ok Perfetto Anche qui ci sono Facciamoli arrivare qui E poi Qua sopra E qua Non ti prendono più Di bastardi Bastardi Ok qui sono solo qua dentro Quindi credo che il metodo sia Aprire la porta E poi chiuderla Col cazzo Col cazzo Mi sono fregato 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 No devi stare su Devi stare su Devi stare su Via Ok Chiuditi Ok con uno si può sopravvivere Con un tarpone solo si può sopravvivere Fatemi ragionare un secondo Ah ok Ho capito Adesso che dovevano rimesi tutti dentro Via Di culo Ciao A posto Oh merda Oh merda Via 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 Ok qua sopra non mi avranno mai Adesso si fa tosta amici Lo leggo già che questo sarà un punto bastardissimo Lo leggo già C'è una leva da tirare giù Eh ma la devi tirare giù Ecco Qui c'è solo una cosa da fare Correre Adama tra ore Mbappé style Correre E aspettare che quel bastardo scenda Eccolo ci siamo Arrivato 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 Suka Su Oh Sì Vai Venite a prendermi adesso Sapete in queste fasi concitate In cui non voglio sbagliare niente Non è facile Anche perché questo gioco Bene o male Anzi direi forse più bene che male Non ha difficoltà Nel senso che non è come Assassin's Creed The Last of Us Far crema Me ne verrebbero a mente A valanghe Che tu metti facile Medio difficile Impossibile Veterano Soldato Qua Bene o male Dato puoi camminare sui Travetti Che è buono Poi dicevo bene o male La difficoltà è unica Un po' come GTA Ok Piazzati Ok Ci metterà una vita Ho capito Piazzati 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 Grazie a tutti. Ecco perché non c'è mai la luce del sole qua dentro. L'oltre. E più o meno. L'oltre mi ricorda molto il film Sausage Party. Che non è proprio un film. E soprattutto, scusate stavo leggendo, soprattutto dall'altro lato non è neanche un cartone animato. Spalancheremo la città, non ti preoccupare. 37% di ricordo e andiamo giù. Torniamo da Momo. E' altissimo questo... Questo tetto. Ciao. 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 Grazie a tutti.